Ciao, mi chiamo Melania Lasio, ho 27 anni e ho studiato presso l'Accademia dello Spettacolo di Torino e sono diplomata come performer e attrice. Attualmente collaboro con due compagnie teatrali, la Louise Clark RTA Movie, poi ho studiato anche in Accademia di Doppiaggio, nelle Marche, a Roma, un po' di cose insomma. Allora? In realtà la stavo pedinando, ma non sono molto brava in queste cose. Come le stavo dicendo, la mia specialità è un'altra. Il mio personaggio già per il fatto che non ha un nome, ma che venga denominato con il ruolo che ha, cioè ragazza punk, fa capire quanto sia un po' misteriosa. Ha una personalità molto divertente e lei si diverte nel ruolo che ha e in quello che deve fare. Ed è anche un po' doppio giochista. È la mia prima volta su un set. Mi sono trovata molto bene. Ho trovato un clima molto aperto, molto familiare. È bello lavorare in un ambiente dove c'è già unità e rispetto degli altri, perché puoi entrare in un ambiente così ti fa sentire più a tuo agio, anche ad aprirti e a pensare che ci possano anche essere collaborazioni future. E comunque vi consiglio di venire a guardarlo. Così.